Siamo in un'altra parte. Bella ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, stamattina mi sono svegliato con un dubbio che non mi ha fatto dormire tutta la notte Infatti ho chiesto a voi su Instagram, diciamo che i pareri sono stati un po' discordanti Secondo voi sono meglio con i capelli così, quindi come mi sveglio la mattina un po' alla caciara senza pettinarli, senza fare niente così messi proprio a caso Oppure con la cera bella, col crestino come mi vedete praticamente quasi sempre Commentate anche qui su YouTube perché è una cosa che diciamo mi potrà cambiare la vita Comunque vi volevo aggiornare un attimino della situazione attuale per quanto riguarda il mio infortunio al ginocchio Visto che me lo state chiedendo in tanti e questa cosa mi fa piacere, significa che comunque un minimo ci tenete a me E che è successo? Che sono fermo? Vabbè già lo sapete, sono fermo da due mesi al ginocchio per infortunio al menisco sul ginocchio destro La situazione va meglio, nel senso che adesso riesco addirittura a scendere senza un minimo dolore a corpo libero Come vedete lo squat tranquillamente a corpo libero Qui è scrocchiato il ginocchio sinistro ma vabbè mi succede sempre Comunque riesco appunto a fare squat a corpo libero Quindi da quest'altra settimana ricomincerò a fare squat con bilanciare vuoto con 50 kg o con 70 kg Vediamo un attimino come risponde il ginocchio Però partiremo molto molto graduali, molto molto con calma, senza fretta perché non voglio farmi male di un uovo Per quanto riguarda invece la dieta mi vedete con la faccia bella secca 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 Perché sono sceso circa 5,5 kg, adesso sto intorno ai 75,5-76 kg di peso corporeo La condizione fisica è nettamente meglio, l'avete visto anche su Instagram, su tutte le foto di Instagram Mi avete commentato e mi ha fatto piacere in maniera positiva per quanto riguarda la mia condizione La forza c'è ancora, è aumentata addirittura sullo stacco e sulla panca Quindi va tutto benissimo, l'unica cosa è che adesso sto molto basso con i macros Questa settimana è stata la settimana più bassa, dalla prossima settimana ricomincerò ad alzare gradualmente Insomma, le calorie, oggi sto a 100 g di carboidrati che è il giorno più basso della settimana Praticamente pochissimi e come alimenti sto mangiando praticamente sempre i soliti Quindi può essere merluzzo, platezza, spicole che ho fatti danni Spicole, broccoli, per quanto riguarda le verdure sono comodissimi e mi piacciono Poi c'è il petto di pollo che qui è coperto perché c'è la pellicola trasparente per non farlo rovinare Vabbè, comunque petto di pollo, quark magro, quindi gli alimenti più o meno sono sempre gli stessi E per quanto riguarda invece le fonti di carboidrati sto mangiando ultimamente quasi sempre gallette Perché comunque essendo basso di carboidrati preferisco assumerli dalle gallette Soprattutto i giorni a 100 g di carboidrati perché mangiare 30 g di riso Fidatevi che è una cosa tristissima, 30 g, 40 g, 50 g di riso sono comunque 1 o 2 cucchiai Cioè, e finisci, quindi è un po' una tristezza A sto punto meglio mangiare 2-3 gallette e via Sto pacco è arrivato 5 minuti fa Lo vogliamo aprire adesso o subito? Io direi di aprirlo subito Prima di iniziare a farvi vedere tutte queste belle cose Volevo ricordarvi che se passate dal primo link che trovate nella descrizione Avrete gli sconti aggiornati praticamente su tutto su Mascol Nutrition Se poi alla fine dell'ordine inserite il codice sconto SIM1 Avrete un ulteriore sconto su tutto l'ordine che fate Inoltre volevo aggiornarvi che mi sa che qui su YouTube non l'ho ancora detto L'ho detto solo su Instagram Che con il codice sconto SIM1 Da adesso in poi gli sconti sono addirittura raddoppiati rispetto a prima Quindi risparmierete praticamente il doppio rispetto a qualche mese fa Quindi questa è una cosa ottima Adesso iniziamo a vedere un po' tutto quello che abbiamo preso Allora, iniziamo dalle cose un po' più grandi Questi sono 2,5 kg di proteine al gusto vaniglia della Parma Pure Proteine isolate ISO0 O come sapete io mi trovo da Dio con queste Sono digeribilissime Quindi al top Questi sono 2,5 kg alla vaniglia Che penso che sia il mio gusto preferito Se proprio devo scegliere tra tutti Perché è quello più tranquillo, più neutro, più delicato, più buono Quanti abbiamo? Un altro kg sempre alla vaniglia del Parma Pure Queste non sono per me ma per un mio amico che me le aveva chieste E gli sono piaciute anche a lui Quindi io le ho prese anche a lui Sempre gusto vaniglia Un kg Qui non è niente Ho riordinato di nuovo il bolero perché mi erano praticamente quasi finiti Ho preso quasi tutti, non c'erano proprio tutti Ma quasi tutti i gusti miei preferiti Ovvero mandarino Ne ho presi mille di mandarino Arancia Ho preso tipo 30 Ho nei melon che non li vedo qui Li avevo presi qui Eccolo qua Ho nei melon ne ho presi 30 perché è proprio il top del top Gusto lime Gusto pera Gusto la lime già l'ho detto Gusti vabbè ce ne stanno un migliore Non mi va di guardarli tutti però Questi diciamo che sono quelli più buoni secondo me Poi qui c'è vitamina C Da 500 mg Che mi trovo bene ad assumere 500 mg E dividerli in dosi frazionate Ovvero una nel post workout Più un'altra in un pasto libero a scelta Magari se vi allenate al mattino La prendete immediatamente dopo l'allenamento Per abbassare il cortisolo Che è l'ormone dello stress E poi un'altra magari a cena Se vi allenate al mattino Se invece vi allenate la sera Una la prendete appena alzati la mattina E una magari nel post workout Subito dopo il post workout la sera Vabbè avete capito Multivitaminico Anche questo lo prendo dopo l'allenamento Nel pasto dopo l'allenamento Poi qui abbiamo Amminoacidi 8-1-1 Non so se si leggono Sempre della Parmadure Qui ci sono le mie barrette preferite Che diciamo che ultimamente non le sto mangiando tanto Essendo molto basso di Magros Però soprattutto quando parto Quando sono in viaggio Sono comodissime Queste secondo me sono le più buone Che ci sono in commercio Ovvero le Carpchilla Questo qua è il gusto Cupis and Cream Però è inutile Vi dico sempre le stesse cose Tanto lo sapete Queste sono le più buone a mio parere Questo è il gusto caramello Poi ci sono altri gusti caramello Con 3M ricordate E poi qui c'è un chilo di burro taraghi Che non è per me Perché come sapete Ultimamente non sto più ordinando burro taraghi Perché è diventata una dipendenza assoluta Ma è per un mio amico Io lo lascio così incartato Perché non mi va di aprire Comunque è un chilo gusto crunchy Che è il top Ragazzi guardate cosa ho trovato Monster White Zero Non ce l'avevo tipo È da rimini che non la trovo Reggi un attimo la telecamera Fammi da camera A me non si vuole Ne prendiamo Quante ne prendiamo Daniel? Una ventina 20 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 Più chiamo quelle del frigo per forza 18 14 Ha preso qualche monster E' cool Cioè rega 21 per un totale di 31,50 euro 31 euro e 50 31 euro e 50 La macchina, oh la macchina Io spero vicino Spero vicino perché La macchina sta là, ho fatto sci qua perché così stiamo a uno schioppo Ma è vicina spero Perché qua è tragica la situazione È giunto il momento ragazzi È giunto il momento Taste test anche se già l'ho provata A Rimini Awareness della Monster White Zero Mi manca veramente tantissimo Proviamo È quella della Lola? La rega è troppo più buona rispetto alla negra La negra Un'altra storia proprio Sistema del capello Olè Sei più sorco ancora così Do you want to touch me tra lalà È una droga poi costa uguale Per oggi La giornata è stata risolta È stata svolta Rega Nel frattempo che Stavamo in giro Lui ha cambiato la maglietta Si è messo la sua canotta nera Allora è giusto Dovevamo fare diverse foto Per IG Per IG E adesso Si sballa Con questo Non esagerare Allora rega Funziona così Io conosco il Simone da vent'anni Se voi lo volete fare in gasare Quando lo beccate in giro Magari becchiate Non so una foto Quello che vi pare Voi prendete il telefono Mettete sta canzone E lui Lui sarta dalla gioia Rega Sbrocca proprio Sono praticamente le 8 di sera E già è praticamente notte Quasi notte Cioè Il cielo è quasi Non dico buio Ma insomma Sta uscendo il tramonto E tipo un mese fa Quest'ora era giorno pieno Stiamo quasi a settembre Quindi è normale Che adesso si accorciano Parecchio parecchio Le giornate Io Questo video però Non so quando uscirà Sinceramente Se uscirà la prima settimana di settembre L'ultima di agosto Non lo so Oggi è esattamente Il 19 agosto E io già ho filmato Veramente tantissimi video Col fatto che devo partire Dal 5 al 12 agosto Vado in Spagna A trovare mio fratello Che ormai si è trasferito lì Fa il cuoco lì Quindi lo vado a trovare una settimana Mi prendo una settimana di relax Completamente da tutto E non so sinceramente Se farò un video lì Qualche vlog Qualcosa del genere Magari fatemelo sapere nei commenti Se proprio lo volete Così magari farò un vlog Vogettino Oppure mi rilasserò Senza telecamera Senza niente Vediamo un attimino Tanto a me non mi pesa fare video Sinceramente Io ogni volta che registro Faccio video È sempre perché mi diverte farli Quindi non è un peso Portarmi la telecamera E fare un video lì Quindi se lo volete Magari fatemelo sapere nei commenti E farò un bel vlog Oppure lì In Spagna E detto questo Spero che questo video Vi sia piaciuto Per quanto riguarda Le monster Che avete visto Che ne avete visto Tipo un milione In realtà è solamente perché Quando vado lì Faccio scorta Dal momento in cui Trovo le monster Faccio una scorta enorme Così almeno non devo Riandare un'altra volta A prenderle Ce l'ho qui a casa Tanto c'hanno scadenza lunga E ne prendo una al giorno Una ogni due giorni Quindi è una cosa Abbastanza tranquilla Insomma E basta Spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemelo sapere con un like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E ci vediamo Nel prossimo video Bella Ciao Ciao Ciao